Ciao ragazzi bentornati nel mio canale, oggi ci troviamo nella stanza dei misteri perché vi vorrei parlare della bambola Annabelle molti di voi probabilmente la conoscono perché è stato fatto anche un film su questa bambola io però vi vorrei raccontare non il film ma la storia vera di questa bambola è stata ricevuta in regalo da una studentessa di infermieristica che si chiamava Donna questo nel 1970 e l'ha ricevuta in regalo dalla madre che appunto in occasione del suo 28esimo compleanno aveva pensato di regalarle questa bambola che a sua volta aveva acquistato in un negozio di bambole usate la ragazza condivideva la stanza con una sua compagna di studi la quale si accorse che la bambola aveva qualcosa di strano infatti si accorsero in breve tempo che non la ritrovavano mai nella posizione in cui l'avevano lasciata la trovavano magari con le gambe incrociate, la trovavano con le braccia incrociate ben presto la bambola cominciò a cambiare anche stanza perché Donna la lasciava magari in cucina e la ritrovava spesso in camera da letto sul suo letto con la porta chiusa un giorno le ragazze rientrando a casa trovarono anche un biglietto con scritto help us con la calligrafia di un bambino e si pensa che possa averlo scritto la bambola una sera tornando a casa ritrovò del sangue sul torace e sulle mani della bambola questo la spaventò tantissimo al punto che le fece interpellare un medium il quale disse che la bambola era posseduta dallo spirito di una bambina che era morta in quella stessa casa e il nome di questa bambina era Annabelle poi accadde che un amico di donna si permese di prendere in giro questa bambola di insultarla, di dire delle cose negative e accadde che questo ragazzo fu aggredito dalla bambola stessa che tentò di strangolarlo vista la natura malvagia della bambola la ragazza decise di interpellare i coniugi Warren sono due demonologi, sono molto famosi e sono riconosciuti anche dalla chiesa è stato fatto anche un film su questi coniugi i quali scoprirono che in realtà lo spirito non possedeva la bambola ma la manipolava quindi questo spirito fingeva di essere una bambina di 7 anni come Annabelle Higgins che era la bambina morta in quella casa che manipolava la bambola perché il suo scopo era quello di arrivare ad un essere umano e possederlo i Warren esorcizzarono l'appartamento e presero la bambola con sé e anche quando la portarono a casa si accorsero che questa bambola aveva dei comportamenti strani l'avevano vista levitare, spesso cambiava stanza quindi in qualche modo si accorsero che effettivamente la bambola era infestata attualmente la bambola è custodita nel museo dell'occulto che è nel retro della casa dei coniugi Warren è all'interno di una teca, c'è un crocifisso e un cartello che avverte di non toccare e di fare attenzione legati a questa bambola ci siano anche degli incidenti ad esempio un sacerdote che aveva insultato la bambola dicendole che tanto non avrebbe potuto fare del male a nessuno subito dopo ebbe un incidente che gli fu quasi fatale nel quale rischiò anche di perdere la vista inoltre una coppia di ragazzi, due fidanzati, in visita al museo avevano schernito la bambola l'avevano presa in giro, l'avevano derisa e poco dopo ebbero un incidente in moto che costò la vita al ragazzo e costò un anno di ospedale alla ragazza questa era la storia della bambola Annabelle io direi che considerando le storie che girano intorno a questa bambola non è il caso secondo me di prenderla in giro e deriderla perché non si può mai sapere è comunque una storia vera, sono delle cose che sono accadute veramente fanno un po' venire i brividi sinceramente quindi io se fossi andassi a vedere questo museo mai e poi mai mi permetterei di deridere questa bambola aggiungo però che io in questo museo credo che non ci andrò mai perché sinceramente andare in un luogo pieno di oggetti infestati mi fa abbastanza senso se non avete visto il video sul museo dell'occulto vi invito ad andare a vederlo vi lascio il link in descrizione perché è davvero un posto particolare e curioso che ogni anno attira veramente tantissimi turisti mi fermo per oggi vi mando un abbraccio gigantesco ci vediamo al prossimo video un bacio a tutti buona serata